buongiorno a tutti buongiorno a tutte ragazze e ragazzi e buon sabato sabato 17 giugno e buona giornata a chi in particolare alla travaglio potrei leggerle uno a uno no facciamo diamo il buongiorno tutti insieme a chi a travaglio la grubera la murgia a parenzo a vauro alla concita de gregorio a rosi bindi e a tutti questi personaggi dal buongiorno quelli che secondo me saranno i veri orfani sono i veri orfani delle delle tanto amato dal popolo di centrodestra silvio berusconi no quindi il buongiorno a tutti loro in particolare ciao teresa buongiorno cara buongiorno intanto il meme il meteo ragazzi prima di leggere pagine di giornale ma parliamo di sto meteo qua ieri serata bellissima locale pieno di gente eravamo in un locale tempo le previsioni davano bel tempo assolutamente bello 30 gradi caldo zanzare tutto poi di colpo pom temporallone su modale incredibile evidentemente evidentemente ogni dubbio è lecito qualcosina di strano c'è che sia il cambiamento climatico che sia la gi ingegneria ogni dubbio è lecito la cosa è certa davano bel tempo e di colpo è iniziato a piovere e penso anche da voi in tutta italia c'è questo problema buon fine settimana dall'abruzzo dice dora ciao giovanna buon fine settimana anche a te ciao giusi mitico buon sabato mar mar buongiorno e felice sabato a tutti lore foglia inizia a vedere i primi collegati anche se la notifica mi dicono che non è ancora arrivata forse adesso forse adesso eccoci qua forse vi vedo potrei vedervi attendiamo qualche istante poi daremo il daremo le leggeremo insieme le prime pagine dei giornali anche se oggi sono abbastanza allineati salvo 12 cioè in verità sono allineati al solito loro volere ovvero quelli di centrodestra che parlano di silvio di forza italia in questo caso quelli di centrosinistra e fatto quotidiano che attaccano chiaramente il governo continuano attaccare berlusconi e siamo pronti vi vedo collegati buongiorno a tutti buon sabato andiamo subito a vedere partiamo dalle partiamo da facciamo un po un per par condicio 1 e 1 no allora abbiamo il giornale perdonatemi che non vedo i giornali perdonati perdonatemi mea culpa mea culpa soltanto mea culpa devo andare a impostare la telecamera andare a pescare i giornali che non ho chiaramente pescato quindi datemi qua eccoci qua li ho trovati ho trovato i giornali eccoli qua mea culpa mia grandissima culpa ecco qua il giornale facciamo una zoomata se riusciamo andiamo a vedere che dice il giornale vediamo giornale di oggi svolta sulla giustizia parlano del caso di nordio del ministro quindi svolta sulla giustizia il vero e il falso della riforma e un approfondimento sulla riforma quella riforma che sta facendo discutere chiaramente le varie opinioni politiche da sinistra che dico una cosa a destra un'altra in verità all'interno della stessa maggioranza della stessa opposizione ci sono delle divisioni quindi perché è una riforma della giustizia una cosa che va al dirà degli aspetti e prettamente politici o di partito ma diciamo che va a colpire quello che è il quello che anche il pensiero personale di ogni singola di ogni singola persona mi metto in schermo così mi vedere riuscite a vedermi dovreste vedermi così ok voi mi vedete così lo stesso ok sono mezzo di lato però va bene come se eccoci qua così dovreste vedermi più o meno più o meno vabbè e facciamo finta di di essere presente ecco qua ecco qua allora andiamo a leggere queste prime pagine allora tagliani lancia forza silvio questo è il giornale il futuro del partito e il futuro del partito mi tolgo dalla telecamerina ma non mi piace vedermi qua per fisco leggere il giornale il leader azzurro in nome di berusconi nel simbolo quindi il nome di berusconi nel simbolo la telefonata di marina per ribadire la sua vicinanza quindi prosegue questa chiaramente vicinanza della famiglia berusconi a forza italia e tagliani lancia una cosa mio parere molto patetica questa volta devo dirlo forza silvio nelle nel simbolo del partito per me è una cosa abbastanza assurda se non ridicola se non triste forse perché sembra quasi speculare su un deceduto io non lo farei poi italiani faccia quello che vuole i voti intanto e sarà lui a perderli non certo io perché non voglio voti da nessuno il fatto quotidiano abbiamo al centro questa vignetta del fatto quotidiano in difese le vittime degli abusi di potere io so io e voi in difese le vittime e la marchesa del grillo questa vignetta dove prendono ovviamente in giro la il presidente la presidentessa giorgia meloni la destra vira all'impunità gli ex di an si berusconizzano il pm curcio sistema intasato cittadini senza più una tutela vabbè cresce questa discussione di cosa si parla del caso della riforma della giustizia che sta facendo ovviamente discutere chi non è d'accordo abbiamo al centro il mattino il mattino che di solito si occupa quasi solo di calcio in prima pagina oggi dice forza italia marina con noi quindi un richiamo al tagliani che traghetterà gli azzurri verso il congresso telefonata con la primogenita di silvio ci sosterrà troppe assenze in aula e richiamo del premier ai ministri chiesti tempi certi per le modifiche e decreti assenze in aula vorrei dire una cosa vorrei dire una cosa ma è possibile che gente che prenda dei 10.000 15.000 euro al mese e non abbiano e non ha neanche la voglia di andare in aula fare il loro lavoro ecco io per le troppe assenze io ho superato 5 per cento delle assenze non giustificate da malattie così io farei il licenziamento dal parlamento fare una legge del genere perché non è possibile avere rappresentanti che non hanno voglia di andare in parlamento a parlare di noi e a lavorare per noi quando sono pagati da noi il resto del carino che dice berlusconi sosterranno forza italia quindi stessa cosa con questa telefonata di marina berlusconi a italiani europa dove sei tragedia dei migranti in grecia guardate questa questa immagine veramente triste con un bambino europa dove sei tragedia dei migranti in grecia il vertice unione europea e il solito flop l'agenzia onu torni subito il soccorso in mare mamma mia che tristezza piccolo piccolo riquadrino per un argomento invece molto importante l'omicidio stradale di roma youtuber esami sui cellulari e grande polemica per il questi youtuber che hanno ammazzato guidando in stato di 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 sotto sotto l'effetto di stupefacenti un bambino di cinque anni c'è molta polemica soprattutto perché è venuto fuori una cosa particolare sembra che questi youtuber abbiano non so quale quale dei tre abbiano però delle influenze importanti perché sembra che uno il papà di uno di questi sia un personaggio che conta nell'ambiente politico quindi più quindi veramente triste robbi chi ha chi non ha peccato scagli la prima pietra dice maria munno concordo concordo però è giusto che tutti non so a quale argomento ti stia riferendo sinceramente vorrei che marina scendesse in campo dice laura bergamaschi io non lo consiglio a marina berosconi potrebbe rovinarsi la vita come è successo per silvio andiamo a vedere il giornale guarda il giornale è proprio mette tutta pagina marina berlusconi il doppio silvio il fattore marina e il futuro del centro d'est e di forte italia e passa ancora da casa berlusconi di in diversi vorrebbero un e un berlusconi a un e una una della famiglia berlusconi in campo ma non penso che la famiglia berlusconi abbia questo volere adesso poi dopo non so se cambieranno le cose però dubito che ne abbiano interessi intanto mezzo pd sta con nordio questa è una cosa particolare l'ennesimo problema di ellis lane e il parlamentare bacchetto non la segretaria riforma della giustizia corretta errore criticala quindi andiamo a capire intanto un attacco a mancini nazionale allo sbando mancini ci hai rotto questo è un articolo pesante e dedicato al ct della nazionale italiana anche con l'era della sera tratta il tema forza italia asse marina taiani scontro sulla giustizia abuso d'ufficio pd diviso quindi vedete che questa riforma della giustizia sta dividendo un po' tutti un po' tutti sia la maggioranza che l'opposizione il resto del carlini e del carlino i berlusconi sosterranno forza italia quindi rinnovano l'articolo l'ho già letto e quindi scusate l'ho fatto due volte repubblica legge salva corrotti repubblica ovviamente critica nei confronti del governo grasso nordi apre le porte all'illegalità estravolge la costituzione sempre esagerati quelli di repubblica e ovviamente contrarissimi a tutto quello che fa il governo potrebbero il governo potrebbe anche dare un fondo speciale di 10 miliardi per l'editoria regalando un miliardo di euro repubblica che repubblica direbbe che è una cosa sbagliata quindi è inutile quindi inutile ascoltarli quando criticano a prescindere criticare a prescindere molto errore è un errore per me molto sbagliato il tempo a taiani le redini di forza italia taiani non penso che abbia il carisma necessario per guidare un forza italia le redini fino al congresso ma dovranno scegliere sicuramente qualcun altro di più carismatico di italiani persona magari serissima persona magari bravissima a fare il suo lavoro il dubbio è sempre lecito ma io non penso che a livello mediatico abbia il carisma per per fare il leader di un partito sinceramente può traghettarlo giusto fino alle fino alle al congresso abbiamo perquisita al centro pagine importante no abbiamo i carabinieri che hanno perquisito l'abitazione del conducente killer di casal polacco perquisita la casa dello youtuber è stata perquisita ieri dai carabinieri la casa di matteo di pietro il giovane indagato per l'incidente a casal polacco dove ha perso la vita il piccolo man e il proietti gli inquirenti hanno anche disposto alla perquisizione della sede della società degli youtuber sconvolti dello scontro coinvolti nello scontro e sconvolti dallo scontro di piero e c'è fondatore dell'azienda the borderline i borderline che hanno superato il bordo hanno superato borderline linea di confine ha superato questa linea di confine facendo una cosa triste attenzione una cosa gravissima tra parentesi guidavano una lamborghini se non ero a 20 anni non penso che si possa però non lo so devo capire non dovrebbero servire tre anni per poter guidare una macchina di una certa cilindrata 50 ore in macchina e cosa sbagliatissima e face girando un video cosa sbagliatissima e soprattutto la cosa più sbagliata in stato di c'è sotto sotto uso di stupefacenti perché è stato il risultato positivo la utile conducente al cannabis quindi amici l'unica soluzione in questo caso è l'ergastolo hanno ammazzato un bambino di cinque anni e per dare non sollievo alla famiglia ma una giusta giustizia nei confronti della famiglia lesa che è di questo papà e queste mamma che hanno perso il loro piccolo l'unica cosa che gli si può dare moralmente è l'ergastolo per questi giovani e non so se per l'autista il conducente anche gli altri per tutti decideranno la giustizia però spero che la giustizia faccia soccorso e non venga influenzata da eventuali manine varie perché sarebbe molto molto triste è veramente veramente una cosa tristissima hanno stroncato e mi dispiace anche per la famiglia del del conducente perché è riuscito in un colpo a rovinare due famiglie la sua e la famiglia del bambino e la sua quindi veramente una cosa triste veramente una cosa triste sarebbero cose da non si dovrebbero non dovrebbero esistere queste cose veramente triste abbiamo la stasera la replica vasco rossi in fiamma 60 mila fan allo stadio olimpico intanto continua in tutti da quello che ho capito in tutti gli stadi questo attacco alla politica delle evidentemente deluso e che ha capito vasco rossi vasco rossi io lo conosco personalmente vasco non parla mai di politica quindi questa cosa mi fa molto strana perché vasco rossi in tutti gli incontri che non ha mai parlato che abbiamo fatto e che facciamo non abbiamo mai parlato di politica ma sempre di moto di musica di dischi di fotografia di di altre cose bene attaccato la politica ha dimostrato a tutti ha capito che si è rotto le balle di tutti dal primo all'ultimo quindi vorrei capire magari ha capito anche dopo tutto quello che hanno fatto fare durante il pandemonio dicendo favole favole che evidentemente veramente il dubbio è questo cantando favole favole e attaccando tutti i politici vasco rossi forse ha capito che durante questi tre anni ci hanno raccontato hanno raccontato lo stesso vasco tante favole favole e anche forse l'aspetto pandemonio questo stupido virus come dice lui evidentemente forse vasco ha capito che anche lui è stato preso in giro dalla politica e da chi l'ha obbligato a fare una cosa che poi si è visto il risultato quindi potrebbe essere ed ogni dubbio è lecito cambiamo andiamo con l'ultima pagina chiudiamo con questo poi vi saluto andiamo con la verità ci tengo a vedere la verità perché parla di altro la verità parla di altro ed è e sostiene una cosa che ho detto io in questi giorni mi hanno rotto le scatole basta dice marina munno ti do ragione assolutamente marina munno vasco bene vasco che altri colleghi lo seguono assolutamente antonella vivido bravo ecco sono d'accordo sono d'accordo la scomparsa del nemico necessario a sinistra i veri orfani del cap per decenni l'anti berlusconismo ha fornito lo schermo dietro al quale nascondere divisioni e contraddizioni che ora esplodono in primo luogo sulla riforma della giustizia pd spaccato centristi a destra ma anche su draghi guerra in ucraina e premierato attenzione si stanno dividendo i partiti da sinistra qua dicono a sinistra ma anche a destra quindi il giornale deve essere il la verità deve essere onesta che non è solo a sinistra ma anche a destra c'è ed entrambi per entrambi gli schieramenti c'è della divisione quindi l'articolo è molto interessante questo della verità maurice belpietro tratta sempre in modo eccellente questi temi vi invito andare a leggere la verità anche aveva il mio è un invito andare a leggere i giornali amici nulla di più andare a leggere andare a leggere i giornali però osservando gli articoli e leggendoli e commentando in modo obiettivo cioè non credete a tutto quello che vi dicono da sinistra a destra da un quotidiano all'altro andate ad analizzare le notizie fate le vostre e cercate di rielaborare questo è fondamentale e basta poi dopo ultimo articolo che è pesantissimo questo è un tema che dobbiamo assolutamente andare ad appurare e verificare perché merita un'indagine è questo qua parigi attacca la nuova gabbia economica dell'unione europea ma s'avanza il fisco digitale quindi attenzione sul pato di stabilità l'italia trova un alleato scontro con berlino prosegue il disegno per utilizzare i green pass in altri ambiti attenzione vogliono berlino vorrebbe la signora ursula von der leyen vorrebbe utilizzare una sorta di green pass per gestire il fisco per controllare tutto totalmente questo si dice che sia la cosa quindi ogni dubbio è lecito come dico sempre la parigi sembra più alleata dalla nostra parte dire non possiamo esagerare lasciamo stare fisco digitale controllo digitale delle persone speriamo speriamo che sia così speriamo che sia così ultimo 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 ateneo psicologi pro genere e contro le leggi politecnico di milano e ordini lombardo schierati con il pride le sue rivendicazioni pure netflix si spiega in realtà una serie tv che racconta la violenza sull'utero in affitto questo è un altro articolo molto interessante da andare a legge di francesco borgonovo c'è una serie di netflix e che di fatto e racconta la violenza dell'utero in affitto violenza che va assolutamente fermata detto questo vi saluto vi vi auguro una buona buon buon saluto ci sentiremo più tardi perché abbiamo due indiscrezioni pesanti e che pubblicheremo sul paragone non posso dirvi nulla adesso perché potrei rischiare il licenziamento dal dal dalla redazione e a parte le battute ci sentiremo dopo perché abbiamo due indiscrezioni una in particolare molto pesante ci sentiremo più tardi nel pomeriggio e primo pomeriggio e tardo pomeriggio come al solito ciao a tutti ciao buon sabato vi voglio bene condividete commentate mi raccomando chi non l'ha ancora fatto segue la pagina mariamunno carica così e non sanno ragionare il nord se ne frega noi nord non se ne frega perdonatemi e vi voglio bene a tutti ciao e chissà cosa faranno riguardo a fuori dal core dice antonella tratteremo anche quell'argomento ciao a tutti buona giornata